Bentrovati, bentrovati e benvenuti a una nuova puntata di Start, storie di vita, storie di impresa. Il format che racconta le imprese del nostro territorio, ma che racconta soprattutto le storie di vita che sono sottese a una storia di impresa. La storia che vi raccontiamo in questa puntata è veramente una storia molto molto bella, una storia che ci porta indietro nel tempo, siamo nel territorio della Valdichiana dove dalla storia di un giovane ragazzo volenteroso nasce poi la storia di una grande azienda, di una grande impresa che ha compiuto quest'anno 50 anni. La storia è quella della Macor, noi abbiamo il suo protagonista, l'autore di questa storia, il presidente Mario Cercuzzi. Mario, benvenuto innanzitutto. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Allora Mario, partiamo dalla tua storia personale perché lì ci sono poi le radici della storia dell'azienda che te hai fondato 50 anni fa. Raccontaci un po' della tua famiglia, la tua infanzia, la sfida di farti studiare. Ecco, io nasco da una famiglia contadina importante, mezz'altro, coltivatore diretto. Famiglia numerosa, di cui mio padre erano 10 fratelli, 5 maschi e 5 femmine. Da lì, in questa famiglia, il motto era questo, che anche un bambino doveva produrre per quello che consumava. Quindi, già all'età di 6 anni, andavo assistente, aiutante, a guardare i maiali. Così, nel tempo si dice, maiali non i suini. Questa è la partenza. Poi, nel 52, quando avevo 11 anni, questa famiglia si divise e con mio padre, mia madre e mia sorella tornamo in un poderino più piccolo, così si erano più liberi. E fu deciso di mandarmi a studiare, di continuare a studiare, altrimenti sarei rimasto contadino. Ormai era tardi per l'esame da missione per le medie e così frequentai l'avviamento a Montepulciano, avviamento del tipo agrario, per 3 anni. Dopodiché passai all'Istituto Tecnico di Fogliano della Chiana, dove si imparava, ci insegnavano il corso, la storia del perito meccanico, però con la pratica. Fu scelta questa scuola superiore perché era raggiungibile in bicicletta, te facevi 15 chilometri ogni mattina andare, 15 chilometri a tornare per andare a scuola. Esatto, lì c'era, per continuare su quel ramo o andare a fermo, sulle marche molto lontane, non c'era la possibilità di stare a retta. Allora era questo istituto più vicino che potevo raggiungere in bicicletta. Se avessi continuato perito agrario era più lontano, quindi dovevo rimanere sul posto. Quindi ho deciso questo, sono i casi, e questo che devo dire in bicicletta, 15 chilometri al giorno, 15 all'andata e 15 al ritorno. E devo aggiungere, per fare una scorciatura, si prendevano una bella parte degli argini del fiume del Canal Maestro. Ecco, questa è la storia. Da lì poi il tuo primo impiego, Mario? Ecco, e da qui, ecco, si può partire qui a questo istituto tecnico, ero insieme a Luigi Scaperrotta, che poi lo ritroveremo, questo compagno di classe. Dopodiché mi chiamarono, finito questo, nel periodo di vacanza, mi chiamò il Capaccioli Araldo, una ditta metalmeccanica di Sinalunga, faceva attrezzature meccaniche e riparazioni e manutenzioni di camion e vetture. Da lì andai e mi misi responsabile al tornitore, cui lavoro individuale dove io non lo facevo volentieri. e il Capaccioli mi disse, guarda Mario, è bene per te, qui impari un mestiere. E ho cercato te perché mi ha detto il professore che sei, eri il migliore sulle macchine utensili. E quindi, questo mi onorò, però era lavoro individuale, mi piaceva più fare il motorista fra tutti quegli altri, questo è il discorso. Però si prendeva poco, lavorando anche il sabato, 15.000 lire al mese. Così dopo un anno e mezzo trovai lavoro a Poggi Bonzi, tornitore, operai qualificato, subito la paga passò a 60-70.000 lire al mese, però ero in trasferta. E da lì ritrovai Luigi Scaperrotta, che nel frattempo era in Svizzera, e venne a lavorare a Poggi Bonzi. E lì cosa succede? Perché qui è importante. Questi due amici di scuola si ritrovano a lavorare insieme e dopo un po' vanno a ideare qualcosa e da lì parte un sogno. Sì, è vero. Allora, lui parte per la Svizzera e io parto, persino a lunga ritorno nel 64, e ritornai, entrai a lavorare alla Parmobi come responsabile di manutenzione alle macchine da palegnameria, cui stabilimento a quei tempi grandissimo, 10.000 m2, tutto nuovo, di cui una parte di macchine usate, ma solo il 20% furono installate, e il resto tutte nuove, tra macchine Nord Italia o principalmente tedesche. E lì veramente mi sono fatto una grande esperienza. Nel frattempo a Luigi nacque il figlio Mauro e dalla Svizzera rientrò, non gli conveniva più starci, e ritornò in Italia e venne a lavorare insieme a me alla Parmobi. Così ci ritrovò per la terza volta i casi della vita. Ecco, come nacque? Poi nacque una idea, su, diciamo, richiesta del responsabile della verniciatura in Parmobi, mi chiese di fare una macchina per verniciare i profili in un modo automatico, tinteggiare e verniciare. Così si fece questo prototipo, e questo era nel 67. Questo prototipo, e con Luigi, questi dati, si mette in proprio, e così, e si produce questa macchina, che per noi era una grande invenzione. Oggi sarebbe stato poco, ma per quei tempi fu una grande invenzione davvero, tinteggiare e verniciare i profili lineari e sagomati. Quindi, da qui è nato Macor. Da lì è nato Macor. Da lì è nato Macor, quindi da due ragazzi che avevano tanta voglia di lavorare, Mario, tanta fame di futuro, di voler costruire qualcosa di vostro. E lì è nata la vostra impresa, è nata la Macor. Ci racconti un po' quali sono state le principali fasi di sviluppo di questa storia d'impresa, poi, Mario. Dunque, è stata intanto due soci tecnici, pratici, non venditori. Quindi, fresatori, tornitori, stesso istituto, stessa mentalità di fare le cose fatte bene e precise, non di fare le cose pagliativi. Si è sempre lavorato veramente per fare le cose al meglio, contentare il cliente e rispettarlo, considerarlo e anche dopo, a macchina riscossa, se c'era un problema, si è sempre fatta assistenza. E questo lo consiglio a tutti i costruttori, a tutti gli imprenditori. A quei tempi, quando arrivavano gli ordini pagati con lettere di credito, forse alcuni mettevano roba anche scadente, ma ormai era riscossa, grandi sbagli. Nella mia esperienza è stato venduto qualche macchina nuova, usata per nuova. Il cliente non è un pollo da spennare, il cliente è una persona intelligente che va rispettata. Questo è il concetto che lo dico anche a qualche amico italiano. Però hanno certe mentalità che forse è più forte di loro. Oltre 100 persone lavorano con voi, un'azienda che appunto quest'anno ha spento 50 candeline. Però i valori che ti hai portato avanti in questa impresa, i valori di base, sono sempre stati gli stessi, i valori umani. Ce ne parli un po' Mario, perché per te questo è un aspetto molto importante di questa storia. Il mio socio, Scaperrotta, che bene dirlo, si è ritirato per motivi di anagrafia a 49 anni di attività, dopo 49 anni. E questo è successo a fine 2017. Anche qui ci vuole la passione e il coraggio a rilevare il 50% per raggiungere il 100%, indebitarsi a tempi d'oggi. Ci vuole la passione. La passione dà anche coraggio e aiutato dall'unione della famiglia. Allora aggiungo la famiglia alla sua domanda. La famiglia è la passione. E sempre contentare il cliente. Cioè essere orientati al mercato, fare cose utili, necessarie per il cliente e soddisfarlo. Se c'è da fare delle modifiche per raggiungere il risultato, si fanno. Poi ci troviamo d'accordo o fitti fitti o tutto il cliente o tutto l'amaco. Però il cliente deve rimanere soddisfatto. A proposito della famiglia, una cosa che mi ha colpito nel libro che voi avete pubblicato per festeggiare i 50 anni e l'azienda, che ripercorre in ordine alfabetico utilizzando le lettere, tanti step di questa storia. E alla lettera A c'è una pagina molto bella che ti dedichi a tua moglie. Come mai in un libro della storia di un'azienda c'è una pagina dedicata a tua moglie? C'è una pagina, credo che mia moglie si merita a questo. Sono convinto perché una signora che aveva una libera professione si ritira per dedicarsi alla famiglia, ai figli. Fin da tempi, 40 anni fa, quando è successo, io dicevo che vale più una casalinga. Che fa bene, che accudisce i figli di una capo ufficio. Mentre a quei tempi si diceva che una casalinga è uguale a fare niente, non veniva considerata. Questi sono punti di vista che forse ora mi danno ragione. Basta, come si può dire, usare il buonsenso nelle cose. Questo che viene usato oggi, si usa più l'opportunismo. Tornando al dentro dell'azienda, ci racconti un po' come è strutturata, quali sono i reparti e che professionalità lavorano con te e tua figlia? L'azienda è cresciuta in questi anni, essendo orientati al mercato, non è stata una cosa proprio guidata, programmata. seguendo il mercato, ecco, si è avuto uno sviluppo e quindi con questo sviluppo si assumevano le persone al bisogno. Sì, una cosa un po' programmata, ma è più, è venuta quasi automaticamente seguendo veramente il mercato con professionalità. Quindi, la cosa che a quei tempi ho capito andando in giro io, era il commerciale. Ecco, perché se io ho comprato questo abito, perché nel negozio qui a Siena c'era in vetrina oppure il negozio. Se però non c'è la gente che glielo illustra, dalla fabbrica non arriva. Questo è il concetto. Quindi, poi, questa macchina è invenzione, proprio abbiamo oltre 100 brevetti di cui qualcuno veramente ci ha dato la svolta, sono cose rare. Ecco, conta anche il prodotto, però ricordiamoci tutti che il prodotto per arrivare al consumatore ha bisogno di una rete commerciale, che a quei tempi non veniva considerata. Primo. Poi, soddisfare il cliente. essere, la proprietà o che per la proprietà dobbiamo essere a contatto con l'utilizzatore. Il servizio è dare, ecco, un'altra, questo è proprio mia, il progetto. Se noi, è capitato più di una volta, abbiamo un pezzo da montare sulla macchina e lo stesso pezzo è richiesto da un cliente che è fermo, quindi occorrono due. Ne abbiamo uno solo. Prima il cliente si ritarda il montaggio all'interno che si recupera poi dopo. Mentre il cliente, l'assistenza, ecco, anche questo ha dato l'assistenza. Oggi c'è questi corrieri, ma in America, pretendo l'assistenza in 24 ore. Sono organizzati con questi spedizionieri di HL o altri e che sembrava un sogno. Ecco, che conta essere nel mercato e avere la volontà di accontentarli, poi viene automaticamente. E noi automaticamente invece andiamo in pubblicità e poi torniamo a raccontarvi la storia di vita, la storia di impresa legata alla Macor. A fra poco! Una puntata speciale, quella di stasera, del nostro format di Confindustria insieme a Canale 3 dedicato al mondo delle imprese. Vi raccontiamo la storia della Macor, vi raccontiamo una storia di vita, quella di Mario Cecuzzi, il suo presidente, che da giovanissimo studente inizia a lavorare come tornitore poi in delle aziende, ritrova il suo compagno di scuola e decidono, giovanissimi, di provare a cavalcare un sogno, quello di creare la propria azienda. Questa azienda oggi da lavoro a più di 100 persone, è un'azienda che ha compiuto 50 anni di vita. Abbiamo raccontato le origini, Mario, abbiamo raccontato i valori, il senso del sacrificio, il senso del lavoro duro che te hai imparato da tuo padre e che hai portato avanti in tutta la vita. Te fai la battuta, dici, ero come un cinese, eh? Ecco, sì, si può dire a tempi d'oggi che io e i miei genitori a quei tempi, negli anni 40, 50, fino a 60, eravamo cinesi. Come cinesi oggi? La volontà, venivamo da un periodo di miseria, di sofferenze, di sacrifici. Quindi si è patito la voglia del gelato oppure della carne, quindi, o di bei vestiti, abiti. Quindi dà questa volontà, questa reazione, questa volontà per raggiungere certi risultati. Diciamo, prima costruirsi una casa, farsi una macchina, poi, ecco, questo stimolo ha portato a quei tempi e tutti, è chiaro, è andato, quest'unione anche ha risollevato l'Italia, ha fatto rifiorire il dopoguerra. E questo grazie ai nostri antenati e alla mia generazione, che però ora si dice si è anche danneggiato l'Italia o il pianeta, questa industrializzazione. Ora troviamo questo equilibrio, perché ora, secondo me, siamo andati un po' di là. Ecco, come si dice, questi giovani di oggi sono meno preparati, meno volenterosi. Io non gli do una colpa, ma è la cultura, il sistema, non lo so spiegare. Però bisogna abituarli, fin dalla famiglia, io do un consiglio, questi giovani, secondo me, sempre, dovrebbero un pochino sacrificarsi, insomma, impegnarsi un po' di più. A partire da portare la borsa, quando esce di classe, a casa. Se c'è la mamma o il nonno, gliela prende in mano. Io ho un amico vicino a casa americano che dice, io la posso portare a mio figlio per abituarsi. E i genitori italiani mi prendono in giro, mi sfottano. Invece no, è per il bene del figlio. E qui, dove è l'equilibrio, definite lo voi giovani di oggi. Tornando alla tua azienda, la Macor, quali sono i mercati dove attualmente lavorate e magari dei mercati che state studiando per nuove espansioni? I mercati fondamentali, per noi, sono tre. Stati Uniti, Cina, Europa. Oppure, meglio, la partenza è stata con l'Europa. Veramente, seguendo il mercato del nord Europa, vale a dire Germania, Austria, Francia e i paesi scandinavi. lì veramente chiedono macchine ad alta tecnologia, funzionanti, cioè sempre innovazioni. Guardano, danno proprio una cultura. Il prezzo è sempre importante, ma guardano più la qualità che il prezzo. Questo è il concetto di un obbligo, almeno nel nostro settore. E noi abbiamo cercato di prendere spunto da questo, alzando sempre la tecnologia, innovazione fra richiesta dei clienti importanti e la volontà di raggiungerla e poi dare anche risolvendo di più di quello che chiedono. Questa è la scommessa. Prima una cosa molto importante, dicevi. La generazione di mio padre, la mia generazione è cresciuta in un momento di grossa difficoltà economica. Il nostro paese, con la fame e il desiderio di conquistare delle cose, dicevi, la prima casa, la macchina, o prima ancora il gelato o la carne. Quando piano piano, con la tua forza di volontà e il tuo lavoro, hai conquistato tutte queste tappe? Ecco, ho provato una grande soddisfazione che dà stimolo e forza di proseguire. Vale a dire, un calciatore che prende 5 milioni all'anno non si ferma perché lì entra proprio il valore, la soddisfazione di essere bravo, di essere un campione e durare. Se uno non ha quello stimolo, dura un anno e poi diventa spendacione o si ritira, finisce la sua bravura. Quando quest'anno la tua azienda ha compiuto 50 anni, voi avete fatto dei festeggiamenti molto belli, molto importanti. nel momento in cui c'è stato quasi come un passaggio di consegne con tuo figlio Simone, che momento è stato Mario? Questo è un momento, è una cosa che si trasmette, si spiega male. Ecco, i figli, quando crescono, come il mio figlio è alto, quando è cresciuto, che ogni volta si avvicinò, vedo sempre più alto, era una soddisfazione, ma quasi un po' anche di dispiacere, che vedi che ti supera, che passa avanti. E così lì. È una lascita che si fa molto volentieri, credo lasciare a un figlio la massima soddisfazione. Poi c'è la parte dove si ritirare, ritirare, questa è la parte dolente, che è dura, però verrà poi naturale. Io ho bisogno che la mia giratina in ditta, mi manca, mi piace la faccia, se non è la mattina o la sera, però vedo sarà, ecco, sono contento, contentissimo di Simone, che sono convinto di lasciarla in buone mani, che avrà un buon proseguimento. e così già l'altro stimolo, guardate, quando nasce i nipoti, da un altro stimolo come i figli, virtualmente si fa una cosa per i nipoti, visto che il figlio è già grande, che è il babbo del nipo. E sono cose che, ecco, ringrazio la fortuna prima di tutto che essere arrivati a questa età, di conoscere quattro, di conoscere intanto, vedere grandi figli, il genero, la nuora e i nipoti. Il più grande, Giovanni, 20 anni, ora è il 9 dicembre, e il più piccolo, Tommaso, 6 anni, e poi c'è Benedetta, 16, e Ludovica, 10, sicché è tutta la gamma. Maschio e femmine, maschio e femmine, e femmina maschio. Allora, citavi i tuoi nipoti, quindi i giovani, le future generazioni, vorrei che tu, Mario, facessi un appello ai ragazzi che ci stanno seguendo, questo format è molto seguito dai ragazzi che fanno l'università, Confindustria lavora molto insieme all'Università di Siena, proprio per mettere insieme formazione e lavoro. che consiglio daresti a una persona che si affaccia ora nel mondo del lavoro, Mario? Partirei da questo, io credo nella collaborazione, copiando, prendendo lo spunto dai tedeschi o dal nord Europa, di collaborazione fra la fabbrica, fra la produzione e la scuola. Da noi vengono, dallo stesso istituto di Foiano, dall'istituto tecnico di Chiusi e altri, vengono in azienda e ci mandano una volta al mese un giovane per una settimana a fare delle esercitazioni, tutto regolare, proprio per aiutare, per noi è un costo e si fa volentieri, è venuta ora anche la terza media, una giornata a visitare a fabbrica e noi la mettiamo a disposizione, ben volentieri, questo è proprio il motto che io ho sempre avuto. E ora rispondo alla domanda, guardate, vengono questi giovani educati, bravissimi, bravissimi ragazzi, però, in genere, così, proprio, proprio digiuni, allora che consiglio, che un pochino ci mettessero di suo, ma anche la stessa scuola, lo stesso professore, di farli più attivi, non stare con le braccia a concerto, così, con le mani in tasca a guardare, non devo fare, ma un pochino, vi dico, vivete, ecco, però, ecco, ragazzi preparati, educatamente non posso divenire, impreparati nel mondo del lavoro. È una richiesta che il nostro ospite ci faccia tre definizioni, tre parole, tre aggettivi sul futuro. Per Mario Cercuzzi il futuro è? La domanda è semplice, ma la risposta è una risposta, tre parole per il futuro. Il futuro è cercare, ma capire cosa andrà domani. Poi, combattere la concorrenza cinese. Questo, ecco, la prima cosa è la salute, però fa paura la concorrenza cinese perché sono un miliardo e mezzo minimo di un popolo volenteroso come non negli anni 50. e noi eravamo 50 milioni e lì sono 30 volte. Questo farà paura al mondo. Quindi noi con l'organizzazione alzare la tecnologia, sempre impianti più automatici, alta tecnologia, cioè fare il know-how. Noi italiani dobbiamo, abbiamo la capacità, la classe e l'intelligenza per inventare questo no o andare fuori o fare uscire fuori dei geni, dei laureati e importiamo della manovolanza scarsa. Ecco, questo è quello che avviene oggi sicché bisogna trovare un sistema di cambiamento qui, tenere i nostri bravi ingegneri e ricercatori. Si chiude qui questa puntata. Io ringrazio sentitamente Mario Ceccuzzi per la tua testimonianza, per il tuo racconto. Ovviamente va un saluto di tutta Confindustria a tutta la grande famiglia Macor, a Simone, a tutte le persone che lavorano all'interno di questa bella azienda. Una bella azienda ma che ha una bella storia alle spalle e che Mario stasera, il presidente, ha condiviso con noi. Grazie a tutti, questa era l'ultima puntata dell'anno, quindi vi diamo appuntamento a gennaio quando ripartiremo con questo ed altri format, allargheremo la nostra produzione dedicata al mondo dell'economia, al mondo delle imprese del nostro territorio. Bene, io ringrazio voi e ringrazio di avermi invitato. Io ho cercato raccontando la mia storia in un modo pratico di poter metterci di mio e lo fa ben volentieri, quindi sono disposto anche altre volte a poter aiutare a dare qualche spunto voglio scegliere quelli meglio scartare. E allora Mario tornerà con noi a breve. Bene, grazie, grazie a tutti voi, a nostra Marion Comici che ha curato tutta la produzione come sempre e ovviamente tantissimi auguri per le prossime feste. Grazie a tutti.